Stato di calamità naturale. È quanto chiedono il capogruppo del PD Ennio Mastrangelo e i suoi colleghi consiglieri appartenenti a tutte le forze politiche alla provincia. O meglio, i consiglieri impegnano i presidenti della giunta provinciale a chiedere alla regione e gli organi competenti l'apertura del procedimento per la dichiarazione di stato di calamità naturale per il nostro territorio, avviando contestualmente sopralluoghi di competenza per la quantificazione dei danni subiti. L'intero territorio provinciale è stato colpito dall'eccezionale ondella di maltempo dei giorni scorsi, si legge nella mozione, con particolare gravità nelle zone più interne e di montagne a causa delle forti nevicate e del vento a carattere temporalesco. In Genti, si legge ancora, sono stati danni inferti, oltre che la popolazione civile e le attività produttive ed economiche del territorio, turistiche, artigianali, commerciali e di servizio alle produzioni agricole, alle impianti e strutture aziendali, a causa delle prolungate interruzioni di energia elettrica, dissesti idrogeologici, allevabilità provinciale e comunale, al patrimonio pubblico, alle infrastrutture e al verde urbano. La mozione sottolinea Mastrangeli, vuole rappresentare uno stimolo e un sostegno a tutte le iniziative già intraprese in via di definizione, in considerazione dei pesanti danni inferti dal maltempo al territorio e alle comunità della Valle Pelinia, Alto Sangro e Valle Subequana.